L'inversione è uno dei passi fondamentali dello sci-escursionismo, in quanto permette di affrontare un pendio, in salita o in discesa, con la pendenza ideale per un buon controllo. Per affrontare l'inversione è importante avere sempre un appoggio stabile e sicuro a valle per evitare di cadere all'indietro nella prima fase. Una volta trovata la posizione stabile con i bastoncini, disporre lo sci a monte, se sto salendo, a circa 180 gradi rispetto l'altro sci. A questo punto appoggiare un bastoncino a monte, lasciando lo spazio sufficiente per recuperare l'altro sci, nella stessa direzione del primo. Serve un po' di pratica, soprattutto con neve profonda, per evitare che durante il recupero lo sci si blocchi con la punta. Anche in discesa l'inversione può essere utile. Quando si scende a sci paralleli, anziché a telemark o a raspa.